le stelle di azus benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di azus l'oroscopo di mercoledì 19 gennaio ariete c'è una luna molto bella per parlare di investimenti per guardare avanti approfittatene per studiare un nuovo piano per cambiare una strategia toro i rapporti di coppia vivranno una giornata difficile sarete molto nervosi e potrebbe volare anche qualche parola grossa nei confronti del partner gemelli anche se siete ancora alle prese con le ire di marte potete tirare un sospiro di sollievo e tornare a parlare d'amore con il partner oggi è una giornata fantastica per gli incontri cancro grazie a questo giove bellissimo continua un periodo molto fertile da un punto di vista professionale sentimentale il lavoro vi vede grandi protagonisti leone luna molto bella capace di farvi vivere una giornata in cui avrete tanto spirito d'iniziativa sono ottimi rapporti sociali familiari ma anche sentimentali vergine questo momento buonissimo per seminare per mettere in pratica un'idea un progetto che da tempo tenete chiuso in un cassetto in amore niente equivoci bilancia oggi avete una luna davvero magnifica al vostro fianco vi fornisce delle protezioni importanti per il lavoro la fortuna sembra essere dalla vostra parte scorpione la luna oggi è molto pesante può creare delle discussioni anche animate in famiglia o sul posto di lavoro tutte le collaborazioni risentono del vostro nervosismo sagittario si apre un'altra giornata produttiva la luna vi rende abili nelle comunicazioni e quindi capace di farvi un'ottima pubblicità non trascurate mai i vostri amici capricorno situazione che va facendosi sempre più interessante anche se marte in questa posizione vi costringe a fronteggiare tanti problemi ogni tanto rischiate di andare in confusione acquario la luna e leone complica i rapporti professionali ma certo non può rovinare questo periodo che rimane pieno di opportunità anche l'amore oggi vi sorride pesci non c'è più il sostegno della luna e la differenza si sente la famiglia richiede il vostro intervento e sarete quindi costretti ad accantonare qualche impegno professionale e coloroscopo di oggi è tutto le stelle di azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su facebook alla pagina oroscopo di azus e vi invitano a fare un'ottima